Il ristoratore Umberto Carriera, proprietario di sei locali tra Pesaro e Fano, torna di nuovo alla ribalta. E' lui uno dei principali promotori, assieme ad altri colleghi italiani, di Io apro, manifestazione di disobbedienza civile. Così l'hanno chiamata che venerdì 15 gennaio lo vedrà aprire i suoi locali anche per cena, dunque dopo le 18. Non sarai solo, gli organizzatori della manifestazione parlano di oltre 50.000 adesioni in tutta Italia. L'iniziativa potrebbe coinvolgere, oltre a Carriera, altri ristoratori del territorio provinciale, ma i nomi non sono stati ancora resi noti. Non è un caso che l'appuntamento sia stato fissato per il 15 gennaio, vigilia delle entrate in vigore del nuovo DPCM, che dovrebbe prevedere misure ancora più restrittive per bar e ristoranti. Stremati da mesi di chiusura, gli operatori del settore contestano la proroga dello stop alle cene, se non per consentire la consegna a domicilio ai clienti e l'asporto, che però, stando alla bozza del decreto, potrebbe essere vietato dopo le 18 per i bar. Da qui l'idea di una protesta pacifica che prenderà la forma della disobbedienza civile. La rivolta viaggia sui social con gli hashtag IoApro e non spengo più la mia insegna. Non è politica, non è una manifestazione, non è una protesta, ma è un'assoluta necessità. Anche qui in città abbiamo decine di ristoratori e di baristi alla canna del gas, rischiano lo sfratto, non sanno più come pagare le bollette. Quindi siamo messi assieme in Italia quei tre o quattro ristoratori che hanno un po' tirato le corde, in questi mesi, con delle disobbedienze civili, ma io le chiamerei più con delle obbedienze costituzionali. Tutti i protocolli verranno rispettati, anzi abbiamo diramato un DPCM autonomo con ulteriori restrizioni per dimostrare al governo che siamo disposti davvero a tutto pur di aprire i nostri ristoranti. Quindi i conti si faranno veramente alle 21.45 e poi tutti a casa? Sì, assolutamente. 21.45 conto al tavolo, anche perché noi siamo in grado tramite la nostra task force di legale di oltre 30 studi associati in tutta Italia di tutelare gli imprenditori, ma soprattutto anche i clienti e i cittadini che vengono all'interno delle nostre case, all'interno delle nostre attività. Una volta fuori c'è il coprifuoco da rispettare, quindi ognuno pensa per sé e alle 22 bisogna essere tutti a casa. Nella peggiore delle ipotesi, se doveste prendere una multa, che cosa accadrà? Come farete? Se dovessimo ricevere delle multe ovviamente faremo ricorso, come abbiamo fatto in tutti gli altri casi. Ovviamente vinceremo se ci sarà un numero elevato, soprattutto nelle nostre zone Pesaro-Fano. Se diverse centinaia di bar e ristoranti terranno aperte, capiamo che sarà impossibile avere un organo di controllo, ma ripeto, anche la parola controllo secondo me non ha senso perché vogliamo semplicemente lavorare. E il grande sostegno di centinaia di cittadini che stanno telefonando, tutti gli esercenti, per chiedere se aderiranno e vorranno pronotare, per noi è una cosa molto importante. Che tipo di riscontro ha avuto dai colleghi pesaresi? Altri aderiranno oltre a lei a questa iniziativa? Abbiamo già 50 adesioni di bar e ristoranti e la stragrande maggioranza, cioè gli altri 150 esercenti, hanno tutti dato un sì di massima, cioè aspettano di capire i numeri. Ovviamente l'obiettivo è aprire tutti. Intanto tra i cittadini pesaresi c'è chi è di accordo con Carriera e chi invece non lo è affatto. Se non moriamo di Covid moriamo di fame, dicono i ristoratori, a qualche ragione ce l'hanno assolutamente. Almeno la polizia può andare a fare dei controlli, cosa che non può fare nelle case private. Non è corretto andare contro la legge, non dovrebbe aprire, dovrebbe utilizzare altre strade. Assolutamente a favore, perché secondo me dopo un po' bisogna fare basta, dato che tutte le misure contenitive hanno limitato poco il Covid, quindi bisogna provare a convivere con la malattia invece che chiuderci in casa. Anche io sono assolutamente a favore, perché comunque i ristoratori stanno morendo di fame e dobbiamo farli lavorare con le giuste precauzioni, insomma.